già chi ti devo raccontare sta roba la stamattina mi sveglio oggi è il quarto giorno dopo che ho iniziato a non mangiare più carboidrati ok per carboidrati intendo pasta pizza pane ok se c'è qualche patata ogni tanto non importa l'importante evita pasta pane pizza questo è diciamo il no carboidrati che mi sono dato allora praticamente stamattina mi peso 88.8 punto 7 non mi ricordo dico no cazzo sono ingrassato 300 grammi pensando al giorno prima che ero 89.5 pensavo che ero ingrassato nella testa mia in mezzo indormito non mi ero accorto che invece ero 88.8 e poi dopo ripensando perché anche il giorno prima ho fatto la stessa cagata capito capito mi ero accorto che invece stavo e stavo rimangendo e quindi cosa è successo che che niente che era un po triste perché dico no cazzo cosa sbagliato porca troia sto faccio sacrificio di non mangiare il pane la pizza secondo me è importantissimo e sono ingrassato 300 grammi 300 grammi insomma quello che era ok di rispetto al giorno prima pensavo che non mi era accorto che invece la cifra dei del chilo proprio invece era nata giù ok va bene e niente quindi la felicità quando mi scoprì questo e quindi quindi nell'essere sicuramente la felicità e quindi nell'essere sicuramente e poi ho detto ma aspetta ma sei sicuro fammi controllare un attimo questo è 88 non è 89 capito ho vado a vedere la foto che ogni giorno faccio il peso ed era 89.5 mi pare quindi mi pare quindi mi pare non mi ricordo comunque sono rimagrito e anche di non depogo tra l'altro non depogo ok e niente la felicità la felicità nello scoprire questo e quindi nell'essere sicuro che ragazzi non mangiare carboidrati fa dimagrire c'è cazzo da fa fa dimagrire fa dimagrire io sono dimagrito mi sembra mezzo chilo al giorno da quando ho iniziato quattro giorni fa questo è il quarto giorno quindi mezzo chilo al giorno più o meno ok sono dimagrito e niente quindi ovvio non a certo punto come al solito tra qualche tra qualche chilo mi fermerò ovviamente il corpo troverà la sua del suo balance e quindi nome fermerò non nel nome già cambiato nel senso che il corpo se fermerà non scenderà più come sta scendendo i primi giorni fa il cambiamento il corpo scende 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 a una certa se qui lì trova l'equilibrio e non scendi più e devi trovare qualcos'altro non so dici non mangio più le patate non mangio più oppure aumento l'esercizio fisico eccetera eccetera ok però comunque sia quello che è importante niente sono contento che ragazzi le vai carboidrati fa dimagrire c'è cazzo da fa